Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre, il potente e l'unità dello Spirito Santo, con l'onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, così a udire, Padre, il nostro, che sei il Dio, sia santo di farlo, venga e crede che sia fatta la tua proposta, come in Cielo e Gesù. Dacci oggi a tutti i nostri spazi, a me e 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 a me. Dacci la pace ai nostri giorni e con l'eruto della tua risentordia che dovremo sempre liberi da libertà e seguri da ogni attorbamento. Nell'attesa risponde alla beata speranza che venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto a noi a questo, vi lascio la pace di donna mia pace. Non guardare ai nostri mercati, ma ad all'ente della richiesta e donne la mia pace secondo la tua volontà che vivrà bene nei secoli dei secoli. La pace del Signore si assente. E con l'eruto della tua vita. Scambiate al loro segno di pace. La pace del Signore si assente. La pace del Signore si assente. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.